C'è Giallini con noi! Buongiorno! Oh, ecchemi qua! Come state? Buongiorno! Io sto una crema! Stai a posto? Sto 15 minuti che sto dentro al tabacchio e sto cercando di comprare le cartine delle sigaretta! Ah si? Ma non capisce sto qua! A cosa? Questa canta una sigaretta! Capisce? Non capisce? Chiara ci parli? Io dici? E in che lingua? Eh Mariano! E cartine? Così? Oh grazie! Oggi ho portato Murigno su setta! Bisogna imparare qualche frase romanesco! Murigno, Murigno! Siamo abituati! Si va nella magica solo che è troppo dimido o esagera! Ieri ho detto quando ti parlano fai sentire la presenza! Giusto! E quindi una vecchia gli ha chiesto la foto e lui gli ha dato la capocciata a fare! No! Non così! No! Mi ha spremuto del sangue! Bravo! Mi ha spremuto del sangue! Mi ha spremuto del sangue! Ma questa l'ha detto? Beata Gi... Allora lui... Questa voleva fare la foto eh? Si! Hai capito? Si ma questa mi ha detto Beata Juventus! Ah no! Ha capito male! Io non mi che... No no no! Io sono contro Giuventus! Ma no! Ma che sta a dire? Beata Giuventus! Mica Juventus! Non c'è niente ragazzo! Che devo fare? Non c'è niente ragazzo! Non c'è niente ragazzo! Non c'è niente ragazzo! Certo che avermi insegnati di italiano così! Ma comunque... Allora... Oggi si parte con due frasi di difesa! Si! Allora Amorì! Sta a sentire! Arriva una squadra inglese! Ti fossi impazziti! Oh! Abuso! Allora si avvicina uno! E fermate il tempo! Si avvicina uno che ti dice una cosa che non ti piace! Che fai? T'ho più il tuo sdrumo! Zeruditone! Bravo! Oh sdrumo! Se ti avvicina un giocatore dalla Lazio! Ti dice... Amorì! Oggi le prendi quattro! Che dici? Se te sputo te un profumo! Bravo! Bravo! Eh beh! Stai migliorando eh! L'allenatore della squadra avversaria urla! Mossica quello sulla fascia! Stendilo! Prendi quello sulla fascia! Fascia? Fascia? Fascia a me? Abambole! Io non so come un'unice così! So come un'unice così! Mi attacciamo a questo qua! E we want! La banda di R101 E we want! La banda di! La banda di! La banda di! R101